Inclusis Project. Il Project Inclusis, il club internazionale esclusivo creato dall'americano Michael Hutchinson nel 2015 e che in data odierna conta all'attivo circa un milione di iscritti in 190 paesi, è il primo club al mondo che offre l'opportunità di effettuare crociere a basso costo con le maggiori compagnie internazionali come MSC, Norwegian, Costa, Oceania Cruises, Princess, Regent ed altre e che permette a chi ne fa parte di risparmiare moltissimo sulle proprie vacanze. Il club è una community di viaggiatori e più precisamente è nato proprio con l'intento di rendere le crociere più accessibili, convenienti e anche redditizie per milioni di persone in tutto il mondo. Tutti sognano di viaggiare e vedere il mondo. La membership del club aiuta a realizzare quei sogni più velocemente con grande comfort e stile. Con l'iscrizione al club si accede su invito in una piattaforma personalizzata nella quale si versano mensilmente sul proprio conto 100 cruises dollar e che si raddoppieranno a seguire nei mesi successivi. Nell'arco di un solo anno i 1.200 dollari effettivamente versati avranno già prodotto un attivo di 2.400 cruises dollar disponibili per acquistare una crociera direttamente dalla piattaforma a prezzi introvabili. Da porre in evidenza che i prezzi delle crociere IV indicati si riferiscono all'acquista della cabina prescelta in occupazione doppia, ovvero che detta quota si intende per 2 persone da cui ne deriva il risparmio del 50% per entrambi i partecipanti. Inoltre acquisendo la qualifica di partner oltre che di membro con il versamento di una quota annuale di 195 dollari per l'attivazione è sufficiente ottenere l'iscrizione a membro di solo 5 persone per non dover versare più la quota di 100 dollari al mese e viaggiare gratis nel ricevere mensilmente 200 cruises dollar. Direttamente dalla piattaforma si può prenotare qualsiasi itinerario di crociera disponibile in convenzione, scegliendo il tipo di nave, da qualsiasi porto, la data di partenza utilizzando per il pagamento i crediti crociera cruise dollars maturati sul proprio conto all'atto dell'acquisto. Sul sito www.incruises.com disponibile in varie lingue compreso l'italiano si possono visionare i video che descrivono nei dettagli le varie opportunità e i notevoli vantaggi per iscritti al club, nonché testimonianze di persone comuni che raccontano di come hanno realizzato i loro sogni nel fare tante crociere spendendo poco o nulla o magari addirittura di guadagnare dei soldi attuando un'attività lavorativa ben remunerata. In ultimo con la partecipazione alla crociera prenotata nell'ambito del club in cruises è da sottolineare l'opportunità di conoscere e socializzare con gli iscritti di tutto il mondo, non trovandosi quindi più in viaggio da soli o con solo proprio nucleo familiare ma con una community internazionale in continuo ampliamento. Entra anche tu nel club e fai un salto di qualità. Con In Cruises ogni desiderio diventa realtà. Grazie a tutti.